Andando per esclusione, questo qui, questo figlio di puttana, sta meglio di me. Troppa esperienza, troppa esperienza. Guardate, sì ti vedo già, sì sì, ma vedete. Cosa sono? Non dovrei passare, non so perché, non lo farò. Non puzzano, ma è come se puzzassero, non hanno alcun odore. Ma è che ti pareva? Ma ti pareva?